Buon pomeriggio a tutti, faccio questo video per dare seguito al nervosismo che ho accumulato nella giornata di ieri quando ho visto che Lukaku sta praticamente andando alla Roma. Siccome c'è qualcuno in giro che ha ironizzato, qualche giornalista che voi ben conoscete, molto vicino ai nostri colori, che ha fatto un video dove prima di tutto ha ironizzato su quelle che sono le reazioni di noi tifosi a determinate situazioni negative, tipo la sconfitta col Trento, tipo il mancato acquisto di questo o quell'altro giocatore, tipo la cessione di Tonali, tipo l'addio di Maldini, tipo tante situazioni che ovviamente ci hanno scontentato e qua si ironizza su questo tipo di reazione di noi tifosi. Siccome già questa cosa mi ha dato un po' fastidio, avevo già deciso di rispondere a questo tipo di video, ma ho visto tutto il video e non sono d'accordo con un solo punto di quelli che ha toccato, nemmeno uno. Quindi io li vado a sviscerare a uno a uno rispondendo a tutto quello che ho sentito e che secondo me sono totali bagianate, bagianate. Io non sono solito fare video il giorno della partita, ma è un discorso, un'abitudine che voglio cambiare quest'anno. Spero quando potrò di fare un video pre-partita, ma questo non è un video pre-partita, non parlerò della partita, parlerò di questo fatto qua. Lukaku sta andando alla Roma, ormai sembra una cosa quasi fatta, eccetera. Per non parlare del fatto che la Roma ha preso Lukaku, sta prendendo Lukaku in questa maniera, ha preso l'anno scorso a zero Dybala, quindi avrà un attacco Dybala-Lukaku e nessuno al mondo avrebbe disdegnato un attacco con Lukaku Dybala. Voglio vedere a chi non piacerebbe avere Lukaku Dybala là davanti con le cifre che stanno spendendo a Roma, non al Milan, in una situazione debitoria clamorosa. Ma adesso andiamo con calma, andiamo con calma. Allora, problema numero uno. Nessuno del Milan ci ha detto che sarebbe arrivato Lukaku. E quindi? Siccome nessuno del Milan ci ha detto che sarebbe arrivato Lukaku, noi dobbiamo essere meno scontenti? Quindi, poi, aggiungo, io dal Milan, da quelli che sono i dirigenti del Milan quest'anno, non ho mai sentito una sola parola riguardante il nostro mercato. Nemmeno un'intervista abbiamo visto. Zero spaccato. Figuriamoci, 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 se dovevano dirci che Lukaku sarebbe arrivato. Quindi, questa è la prima cosa clamorosa. Nessuno ci ha detto che sarebbe arrivato Lukaku. E che cosa significa? Che cosa significa? Perché se lo sapevamo ci dovevamo incazzare di più. C'è una possibilità, c'è sempre stata questa possibilità, dal momento in cui Lukaku non è più tornato all'Inter, ed era una possibilità che gli ultimi giorni di mercato poteva essere colta. Piaccia o non piaccia Lukaku? È un giocatore che in Italia fa tutta la differenza del mondo. Se invece noi preferiamo che questo vada a vestire la maglia di una nostra avversaria, ok, facciamolo. Poi vediamo chi avrà ragione. Quindi, punto numero uno, nessuno ce l'ha detto. Non significa assolutamente niente. Poi, tra l'altro, lui continua dicendo io preferirei Taremi. Uno preferisce Taremi piuttosto che Lukaku. Vado avanti, non commento. Che poi, probabilmente, andiamo su Taremi davvero, eh. Vabbè, andiamo avanti. Cosa facciamo? Prendiamo Lukaku per un anno, in prestito secco, in prestito oneroso, e poi se ne torna nei suoi appartamenti? Ma chi lo dice questo? Chi lo dice questo? Dove sta scritto che se la Roma sta prendendo Lukaku col prestito oneroso per un anno, dove sta scritto che le nostre condizioni sarebbero state quelle della Roma? Dove sta scritto? Non era possibile intavolare una trattativa con un prestito con diritto di riscatto? Non penso che il Chelsea preferisca un prestito secco. Prestito secco significa che il giocatore gli torna l'anno prossimo indietro. col diritto magari c'è la squadra che solo prende. Siccome il Chelsea non ha tutta questa voglia di tenersi Lukaku, magari avrebbe preferito il prestito con diritto. Quindi io magari faccio un prestito con diritto di riscatto e ho la possibilità, l'anno prossimo, se mi sta bene, se ho un budget, come dico io, di andare a trattare l'acquisto di Lukaku. Ok? Quindi nessuno dice che il giocatore l'avremmo dovuto prendere in prestito secco. Non sta scritto da nessuna parte. Quindi io lo vado a prendere, lo vado, provo a prendere Lukaku perlomeno, con le mie condizioni. Se loro mi dicono guarda che Lukaku me lo devi pagare 40 adesso, io dico ok, arriva a dirci grazie, in questo momento non posso. Va bene, mettiamola così. Mettiamola così. Poi, andiamo avanti. Noi abbiamo preferito andare su Okafor, quindi noi abbiamo preso lui, perché è un giocatore che costa meno, è un giocatore più sostenibile, è un giocatore più giovane, noi proviamo su Okafor. Ok. Ma dove sta scritto che Okafor è l'alternativa di Lukaku? Dove sta scritto? Ci state riempiendo di chiacchiere? Ci state riempiendo di chiacchiere? Okafor è il sostituto naturale di Rafa Leao, come caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. E' andato via Rebic, abbiamo sostituito Rebic, che non abbiamo praticamente mai avuto l'anno scorso, con un giocatore come Okafor, perché a noi serve uno con quelle caratteristiche quando Lukaku, quando, scusate, Leao, non è disponibile. O lo vogliamo far riposare, o qualsiasi altra cosa. Ok? Questo significa andare a prendere Okafor. Non c'entra niente con Lukaku. Non c'entra niente. Tanto è vero che noi stiamo cercando ancora il centravanti. Lukaku è centravanti. Okafor, fino a prova contraria, non è centravanti. È un esterno offensivo. Quindi ci viene detta una chiacchiera che non c'entra nulla. Nulla. Andiamo avanti. Si torna sul discorso di proprietà o non di proprietà. Facendo un esempio, io preferisco sempre avere una casa di proprietà piuttosto che una casa in affitto. Chi lo dice? Chi lo dice che la casa, in questo momento in affitto, non sarebbe potuta diventare di proprietà all'anno prossimo o tra due anni. Io col Chelsea vado ad intavolare una trattativa. l'ho detto prima e lo ridico. Lo dico e lo ridico. Lo faccio alle mie condizioni. Se gli sta bene, ok, altrimenti vado via. Non mi sento che io devo necessariamente prendere un giocatore che tra un anno non ce l'ho più perché se ne torna indietro. Dove sta scritto? Chi l'ha detto? Io faccio una trattativa e faccio sì che quest'anno il giocatore sia in prestito perché ho già fatto tanto sul mercato e non posso andare ad appesantire il bilancio di quest'anno ma l'anno prossimo metto in preventivo che devo spendere 40 milioni, 35 milioni, 45 milioni per Lukaku e faccio questo tipo di mercato visto e considerato che la squadra l'ho praticamente rifatta quest'anno. Non è che l'anno prossimo devo rifare 10 acquisti. Ne farò 3 o 4. Ne farò 4 o 5. Fra quelli io metto mi prefisso il fatto che devo andare a prendere Lukaku quindi lo prendo in prestito quest'anno se va bene l'anno prossimo lo prendo e lo faccio diventare mio di proprietà. Ok? Quindi non diteci cazzate non è che io preferisco la casa a proprietà piuttosto che quella in affitto che esempio è? Io la casa in affitto ce l'ho quest'anno l'anno prossimo me la compro che significa? Ci riempite di chiacchiere o meglio pensate di riempire di chiacchiere la gente che vi sta a sentire ma sono cose che fanno proprio girare le palle queste fanno girare le palle poi dobbiamo intenderci su una cosa qui si è fatto l'esempio dell'Inter della Roma che stanno prendendo giocatori in questo modo qua l'Inter la Roma scusate a quanto pare a quanto pare la Roma prenderà Lukaku e ci viene detto la Roma ha speso zero di cartellino fino ad ora noi abbiamo speso 120 scusate ma i 120 milioni che noi abbiamo speso non 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 i soldi che abbiamo avuto invece non fanno parte del mercato i 75 milioni di tonali si sono volatilizzati se ne abbiamo spesi 120 ne abbiamo incassati 75 più questo più questo più questo quel pochino per Rebic quel pochino per quello per un pochino per quell'altro un pochino per quell'altro ancora soldi risparmiati dagli ingaggi siete voi che ci fate questi discorsi siete voi che ci fate questi discorsi quindi non abbiamo speso 120 milioni abbiamo speso a netto quello che abbiamo speso meno quello che abbiamo incassato quello abbiamo speso quello è il costo di questa sessione di mercato non venite a parlarci di queste puttanate di queste chiacchiere che vado in bestia vado in bestia tra l'altro tu non eri quello che aveva doveva spiegare a Bruno Longhi che alla fine il mercato del Milan non era faraonico ma sarebbe stato un mercato a zero alla fine tra costi e tra quelle che sono state le spese e quelli che sono invece i soldi incassati non ci avete detto voi queste cose non ce le hai dette tu queste cose avresti spiegato a Bruno Longhi esattamente che il Milan avrebbe fatto un mercato alla fine a zero autosostenibile ce le avete dette voi queste cose quindi come mai adesso prendi in esempio la Roma che ha speso zero di cartellini e noi che invece ne avevamo speso 120 ma dove e soprattutto la Roma ha speso zero di cartellini è illegale è una cosa che non si può fare o si può fare si può fare una squadra senza spendere soldi per i cartellini si può fare è una scelta vostra nostra quella di non farlo ok e i giocatori che la Roma ha preso a parametro zero sono di proprietà della Roma non sono in affitto sono di proprietà della Roma la Roma ha preso Awar e l'ha preso a zero ha preso Paredes e l'ha preso a zero ha preso Ndica e l'ha preso a zero prese Dibala e l'ha preso a zero prese Belotti e l'ha preso a zero dobbiamo andare avanti li ha presi a zero ma sono di proprietà della Roma i cartellini sono di proprietà della Roma esattamente come i nostri che invece li abbiamo pagati quindi non lo so chi è il fesso in questo momento qua non è sicuramente una buona motivazione è quella di dire che la Roma ha preso zero quindi può prendere Lukaku non è così perché la Roma per prendere a zero i giocatori li ha pagati di cartellini ha pagato gli ingaggi ha pagato gli ingaggi e li ha ben pagati gli ingaggi di questi giocatori qua quindi ste robe vagliele a dire a qualcun altro quindi io non ammetto queste prese per il culo perché Lukaku era un giocatore assolutamente prendibile assolutamente prendibile si chiude il discorso dicendo immaginate le pressioni del Milan della stagione del Milan quest'anno avendo un Lukaku ma di che cosa stiamo parlando ma di che cosa stiamo parlando io so solo una cosa che l'Inter l'anno scorso facendo il mercato che ha fatto senza poterselo permettere andando a prendere i giocatori a zero andando a prendere i giocatori in prestito per un anno come ha fatto con Lukaku o a zero come ha fatto con Mkhitaryan come ha fatto con qualsiasi altro giocatore che ha portato a zero hanno avuto i risultati sportivi perché sono arrivati in finale di Champions League e si sono pagati quei soldi che hanno speso per un anno per Lukaku ok quindi uno fa una scelta vuole una squadra pronta che ci possa portare un risultato sportivo subito perché i risultati sportivi subito sono quelli che portano i soldi ok perché se io vinco il campionato vado avanti in Champions League entrano soldi se io faccio stagioni di merda soldi non entrano soldi non entrano non entrano dal campo non entrano dal merchandising nessuno vuole spendere perché il Milan non vince non si compra la maglia se il Milan vince si compra la maglia si compra quello si compra quell'altro ma Katkpur ma Katkpur la kvert quando dorm la notte questo è il discorso che dovete capire quindi quando uno fa un investimento come quello anche a perdere come quello di un prestito lo fa perché vuole il risultato sportivo vuole il risultato sportivo e me ne frego se quest'anno Lukaku sarà costato 5-6 milioni 7 milioni di prestito oneroso tra l'altro si parla di 5 milioni di prestito oneroso per un anno e 7-8 milioni di ingaggio glieli do glieli do perché al 90% con la squadra che abbiamo fatto e con Leao e Lukaku là davanti e con Pulisic e con Cucuese è probabile che il campionato lo vinco e me ne frego se mi costerà 10 milioni 12 milioni 15 milioni nella stagione di Lukaku me ne frego ma io porto a casa un risultato sportivo per un anno io lo faccio il sacrificio non l'abbiamo fatto su Di Bala l'anno scorso ed è andato alla Roma adesso con Lukaku è andato alla Roma cosa aspettiamo che la Roma faccia poi ogni volta che c'è Muregno di là c'è Muregno e i giocatori glieli prendono a quel testa di cazzo i giocatori glieli prendono sempre quello se va a fare l'allenatore del Duveton del Jackat del Cristiano Ronaldo noi non siamo capaci con i conti a posto con le Champions League che stiamo facendo con il cammino che abbiamo fatto con gli introiti che abbiamo fatto non siamo capaci di fare uno sforzo economico uno per una stagione e poi se le cose vanno come devono andare l'anno prossimo me lo compro Lukaku me lo compro o non è più buono Lukaku a 30 anni questo dovete dire questo dovete dire non le chiacchiere che cercate di far bere alla gente le chiacchiere quelle sono chiacchiere sempre con sta roba di indorare la pillola ci avete scocciato ci avete scocciato parlate delle cose come stanno i fatti sono questi i fatti sono questi questa era un'occasione di mercato ci avete detto tutta l'estate il Milan aspetta un'occasione per il centroavano l'occasione questa era l'occasione questa era l'occasione che altro vi aspettavate che altro vi aspettavate che viene qualcuno alla porta a dire è gratis si vieni tres volete qualcuno che venga a bussare che voglia venire gratis in omaggio non ho capito qual è questa offerta che volete questa occasione che aspettate qual è qual è nessuno non è un'occasione che non è un'occasione che non è un'occasione non è un'occasione che non è un'occasione iscrivetevi al canale Del Briga iscrivetevi al canale Del Briga lasciate un like condividete questo video condividete se ne avete voglia tasto grazie e abbonamenti forzalotti e vincerai non ti lasceremo mai ciao a tutti